Buongiorno mister Enrico Zambrulli, Juventus TV, le chiedo come ha visto i suoi giocatori di rientro delle varie nazionali visto che sono rimasti in pochi qui a Torino e poi che cosa si aspetta alla gara di domani? Grazie. Diciamo che da domani dovrebbe iniziare una nuova stagione perché non scordiamoci che il primo mese è stato fatto male. Eravamo partiti bene le prime tre partite come prestazioni, poi dopo abbiamo fatto le brutte prestazioni e seguite le sconfitte. I dati confermano quello che è stato. Abbiamo giocato nove partite, abbiamo perso tre partite, due di Champions e una in campionato. Abbiamo fatto quattro pareggi e due sconfitte. Quindi bisogna essere cosci e responsabili del momento. Ne abbiamo parlato tutti insieme con la squadra. Domani troviamo un Bologna sicuramente che ha demeritato contro l'Empoli la sconfitta. Sicuramente avrebbe meritato un altro risultato. Comunque bisogna tornare alla vittoria. Per quanto riguarda i giocatori, i giocatori sono tornati bene perché comunque l'Italia ha vinto due partite. Quindi Bonucci e Gatti sono tornati sicuramente a livello mentale rinfrancati. Vlaovic e Kostic hanno fatto bene con la Serbia. Gli altri comunque hanno fatto tutti bene. Abbiamo fatto due allenamenti buoni. Ora però domani è quello che conta perché quello che conta sono le partite. Buongiorno, mister. Giovani Albanese Sport Italia. Ha fatto un po' discutere l'esclusione di Bonucci a Monza. In queste due settimane si è detto tanto, tutto e di più. Visto che si apre un ciclo determinante per la vostra stagione sia in campionato sia in Champions League, le chiederei se può chiarire effettivamente il rapporto col capitano e se è al centro del suo progetto o meno. Grazie. Allora, aveva giocato solamente semplice. Aveva giocato solamente tre partite e era stanco e quindi a Monza ho preferito tenerlo fuori. Ma era da programma. Come devo gestire lui? Che comunque, nonostante che sia capitano, ha già 35 anni. Lo stesso Danilo che viaggiano quadrato. Devo cercare di gestire al meglio quelli che sono i giocatori molto importanti della Juventus in una gestione oculata perché comunque ora abbiamo una partita ogni due giorni per quattro volte perché ora giochiamo domani, poi giochiamo mercoledì, poi giochiamo sabato, poi giochiamo mercoledì, anzi martedì a Haifa col Maccabi e poi giochiamo di nuovo sabato col Torino. Quindi sono due settimane importanti, però facciamo un passettino alla volta. Ora pensiamo domani a quella che è la partita col Bologna. Buongiorno, signore Alcobendizi. Signore Mie Calcio News, a me mi piace sempre farle delle domande sul personale. Ecco, questo periodo che c'è stato, non molto lungo ovviamente, di pausa, lei ha avuto modo di riflettere non solo sugli errori da non commettere più, ma su alcune cose che vorrebbe fare e che non è riuscito a fare prima. Grazie. Abbiamo guardato un po' di tutto in queste due settimane, soprattutto la prima, abbiamo fatto tanti confronti tra di noi, soprattutto per andare ad analizzare un po' più o meno quelle che potevano essere le problematiche, che poi dopo, quando succedono questi momenti che fai una settimana brutta come abbiamo fatto noi, dopo vai a cercare tutti i problemi o il problema, invece in questi momenti bisogna cercare solo la soluzione. La soluzione è quella di fare, fare in campo, lavorare, fare qualcosa di più perché quello che è stato fatto non è bastato e soprattutto avere una gestione diversa degli imprevisti, ovvero quando ti capitano quegli imprevisti con la Salernitana, con la Roma in casa, da gestire in modo migliore, perché sicuramente direi l'eccessivo nervosismo che abbiamo avuto con la Salernitana in casa ci è costato poi dopo un dispendio in EG durante quella settimana con partite importanti. Stiamo recuperando dei giocatori importanti, domani ci saranno i rientri di Alessandro, di Rabiot, di Locatelli, Quadrado comunque rientra dopo la squalifica anche se è andato in nazionale, e Milik lo stesso, direi ora i bordi ai box, c'è rimasto solamente Di Maria che due giornate di squalifica e Pogba e Chiesa. Quindi abbiamo sicuramente un numero di giocatori più ampio per poter cercare anche di gestire un po' meglio le partite. Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport, buongiorno. A proposito appunto dei rientri dagli infortuni, volevo sapere dei tre, Alexandro, Locatelli, Rabiot, come sono messi? Se sono tutti e tre pronti per giocare dall'inizio, se c'è uno più avanti, più indietro? Ma no, stando bene, direi che questi 15 giorni di sosta li ha recuperati sia mentalmente che fisicamente, quindi sono tutti e tre pronti per giocare. Poi dovrò valutare alcune situazioni, però direi che hanno lavorato bene, sono molto contento. Buongiorno Alessandra D'Angiora, i Sport. Vi ricollego la domanda di prima, perché lei prima della partita contro il Monza aveva detto è importante per tanti motivi una vittoria, anche per passare una buona sosta. Non è andata così, allora le chiedo, anche umanamente per lei, come tecnico e come uomo, che sosta è stata? Ma quando si perde si passa sempre le butte soste, ma come si passa il giorno dopo male, anche quando c'è una partita ravvicinata. Però fa parte del gioco. Una cosa che è sicura è che noi stiamo cercando di riportare la Juventus a vincere, speriamo di farlo nel più breve tempo possibile, con lavoro e con passione. È normale che dopo tanti anni di vittorie questa cosa è mal accettata, però fa parte della vita, è ciclica. E quindi tutti bisogna rimetterci in discussione e bisogna essere bravi a riportarla più velocemente a vincere. Nonostante che sicuramente ci sono avversari importanti, come l'Inter, Mila e Napoli a Roma, ci sono tante squadre che si sono rinforzate. Però non c'è altra via, ecco. Questo fa parte dei momenti in cui le cose vanno bene, dei momenti in cui le cose vanno meno bene e quindi devi essere pronto a lavorare di più per cercare di riportare le cose sulla retta via. Però sono sfide importanti da vincere e quindi domani abbiamo tutto il tempo per poter recuperare sia in campionato che in Champions. Però per farlo bisogna fare un passettino alla volta, sicuramente con un atteggiamento diverso, sicuramente con un atteggiamento più cattivo, anche più di grande rispetto verso gli avversari. E domani sicuramente ne abbiamo la possibilità, fortunatamente il calcio ti dà la possibilità di rigiocare, a parte che in questi 15 giorni c'è stata la sosta e dopo un trend negativo di tre partite dove abbiamo pareggiato, perso, perso, magari la sosta, speriamo, domani lo diciamo, ci avrà fatto bene. Buongiorno giovani, guarda la Sky Sport, non c'è Di Maria per due partite, Milik invece sta dimostrato di essere già ben inserito, le chiedo se il discorso dei due attaccanti può essere in proiezione futura la base della Juventus oppure ci dobbiamo aspettare sempre le rotazioni anche quando rientrerà Di Maria, perché insomma la coesistenza di tutti e tre è complicata. Le chiedo comunque se di base sono i due attaccanti quelli che possono dare una svolta alla stagione. La svolta non la danno solo due attaccanti, la svolta bisogna darla tutti in generale. In questo momento con fuori Di Maria è normale che i due attaccanti che possano giocare insieme, che possano coesistere, cerchiamo di sfruttarli nel miglior modo possibile. Poi quando rientrerà Di Maria sicuramente variremo delle cose, però è anche vero che, ripeto, abbiamo una partita ogni due giorni, è difficile avere un 11 base, soprattutto giocare sempre nello stesso modo, perché comunque per caratteristiche dei giocatori bisogna cercare di cambiare, ma questo non è assolutamente un problema. L'importante è avere un atteggiamento giusto. Buongiorno mister, Domenico Marchese, La Repubblica. Inizia un periodo di 42 giorni con 12 partite tra Campionato e Champions. La sera del 13 novembre, dopo la partita con la Lazio, sarà contento? Si avrà raggiunto quali risultati? Grazie mille. Quello lo vedremo, perché tanto ora è nuto di parlare, e ora in questo momento bisogna stare zitti, perché bisogna fare solamente risultati. L'ho detto prima, abbiamo giocato nove partite e ne abbiamo vinte solamente due. Quindi togliamo quella con la Salernitana, però questi sono i dati, quindi bisogna stare in silenzio, lavorare di più, perché questo momento non è il primo che passo, e non sarà neanche l'ultimo, fortunatamente. L'importante è avere voglia, soprattutto una grande sfida comunque da vincere o creare i presupposti per vincere. Quindi lavorando in totale serenità, sapendo essere inconsci, e la squadra lo è, responsabile del momento che abbiamo attraversato. Da domani inizia un'altra tranche di stagione dove ci sono 12 partite, un blocco a 12 partite è la prima volta che succede, quindi bisogna essere bravi nella gestione, nel cambiare la squadra, nel cambiare i giocatori, nel far riposare. Però facciamo un passettino alla volta senza andare troppo lontano. Antonio Barillà alla Stampa. Io volevo sapere, visto che prima si accennava a Pogba, i due che rimangono fuori sostanzialmente, ci sono dei tempi di previsione di rientro sia per Chiesa sia per Pogba? Momentaneamente no. Momentaneamente non ci sono. Perché l'unica cosa che vi posso dire è che Chiesa la prossima settimana incomincerà a toccare un po' più la palla e magari si potrà avvicinare alla squadra. Ma da questo a giocare bisogna valutare. Pogba momentaneamente non ha ancora corso. Quindi bisogna vedere l'evoluzione. Magari poi, appena inizia a Corri Paul, le cose vanno bene e nel giro di due o tre settimane può essere a disposizione. Lo stesso per Federico. L'importante è che proceda bene. Si stanno seguendo nel migliore dei modi e quindi per ora tutto sta procedendo bene. Però da lì a giocare ci passa tanta acqua sottopunti. Buongiorno, mister Fabio Riva del Tutosport. Una curiosità. È dall'inizio della stagione che De Ligt, poi Arthur, poi Kuluseschi, poi di nuovo De Ligt, poi magari un po' Bentancur dicono a posteriori che hanno lasciato la Juve anche perché si giocava in maniera troppo difensiva, non si trovavano bene e quant'altro. e chiedo se vuole replicare a questo se c'è il rischio che anche adesso qualcuno patisca un atteggiamento un po' difensivo se dipende in realtà dalla squadra questo atteggiamento. E poi gliela butto lì visto che anche l'altra volta aveva accennato il discorso e non c'è stato modo di approfondirlo. Fabio, però una domanda, Fabio, per favore. Faccio solo la vola, poi scegli il mister quale vuole. È un argomento, credo, delicato. Delicato? No, che credo sia un po' fastidioso anche. Se la infastidisce o la incuriosisce il fatto che dai vertici arbitrali o dalla FGC si sia minimizzato l'errore con la Salernitana quando magari basterebbe dire abbiamo sbagliato, c'è stato un problema, capita. Invece si continua a dire nulla di che. Per quanto riguarda gli arbitri rispondendo tutto di Dio per quanto riguarda gli arbitri non commento, non ho mai commentato cioè Rocchi è un responsabile dopo alla fine c'è l'allenatore responsabile e quindi Rocchi è responsabile e quindi ci penserà a lui a gestire il milione di modi. Tra l'altro devo fare complimenti perché domani arbitra in Sassuolo Udinese no, in Sassuolo in Sassuolo? Salernitana una donna quindi anche lì se uno è brava che sia uomo e donna non conta niente quindi è stato fatto un passo avanti. Poi per il resto sapranno loro dove mettere le mani e dove migliorare quello che è la situazione. Però non commento per quanto riguarda i ragazzi che sono andati via li posso fare solo un grosso in bocca al lupo perché alla Viventus hanno dato io credo che abbiano ricevuto molto dalla Viventus poi le interpretazioni riportate io sono sempre abituato a valutare a confrontarmi con le persone quando ci parlo a quattro occhi quando dopo vengono riportati i discorsi di solito quando ci sono riporti c'è sempre un riporto sempre in più una parola in più però direi che hanno fatto alla Viventus hanno dato un buon apporto e credo che anche loro devono essere contenti di essere stati alla Viventus ciao Antonio Paolino Radio Bianconera ti volevo chiedere qualche cosa di più su questo confronto se c'è stato con quale atteggiamento costruttivo e magari col gruppo eventualmente capire quale sono state condivise in maniera condivisa le critiche che magari non ritenete opportune e che avete rimandato al mittente grazie ma le critiche le abbiamo diciamo lette è giusto perché in questo momento qui che dobbiamo fare abbiamo perso ripeto abbiamo vinto solamente due partite quindi è giusto che veniamo criticati poi in questi momenti parlare troppo troppe riunioni troppo troppo di tutto non va bene in questo momento c'è fare le cose semplici innanzitutto cercare di vincere la prima partita dopo la sosta che è quella di domani poi dopo faremo un passettino in avanti poi ne faremo un'altra ancora tanto parlare non serve a niente quello che conta è un rettangolo verde dove se vinci sei bravo se perdi purtroppo devi solamente stare zitto bisogna stare zitto anche quando si vince e tenere il profilo basso ma quando si perda ancora di più in questo momento noi non siamo non siamo nelle condizioni di poter dire A Sì mister Cristiano Corbi il bianconero lei aveva parlato di Locatelli come un leader del futuro di questa Juve mantiene questa opinione anche insomma a seconda di quello che è uscito nelle scorse settimane grazie su Manu credo che Locatelli all'anno scorso ha fatto un campionato straordinario quest'anno e lo sa benissimo anche Manu non ha iniziato nel migliore dei modi questo infortunio e questa sosta le ha fatto solo che bene l'ho rivisto rivitalizzato sotto l'aspetto fisico e sotto l'aspetto mentale Manu io credo che sia un giocatore sarà e lo ripeto sarà in futuro uno dei pilastri della Juventus per qualità morali e tecniche buongiorno mister Alberto Mauro messaggero Juventus News 24 volevo chiederle in questo momento la Juventus credo che abbia l'ottavo miglior attacco della Serie A è un dato che la preoccupa o pensa che sia dovuto alle tante assenze da qua all'inizio del campionato grazie direi che ci sono due o tre dati che non mi sono piaciuti oltre che l'attacco sicuramente ci sono altri due dati importanti che non mi sono piaciuti però in questo momento andare a parlare di dati e pensare che quello è il problema che quell'altro è il problema andare a trovare i problemi bisogna trovare la soluzione ecco l'unica soluzione che è quella è cercare di vincere domani col Bologna che è la cosa più importante il resto conta poco e niente ultima domanda e chiudiamo con Antonio Barillà che farà la seconda correttamente chiesta no ti voglio fare una domanda un po' delicata però sento di doverla fare le critiche è giusto accettarle dopodiché ogni tanto ci sono delle critiche che vanno un po' oltre ho visto Ferrara che ha replicato a Cassano volevo sapere se tu devi replicare a qualcuno e per inquadrare la domanda come te la cavi col ping pong grazie no non è ho letto di Ciro è stato geniale Ciro però direi che purtroppo cioè purtroppo non so se purtroppo o fortunatamente ma io non sono non faccio parte dei social fortunatamente per me però il mondo viaggia così cioè un'ora quello che si dice ora fra 20 minuti non c'è più c'è già un'altra notizia io credo che noi io e tutto lo staff e tutti i giocatori bisogna essere concentrati su quello che che bisogna che bisogna fare cioè il campo poi dall'esterno si parla si dice si fa però si parla e si dice fa poco però si parla e si dice tanto questo è un altro discorso grazie a tutti buona giornata buona giornata grazie a tutti grazie a tutti